Berlusconi mente sapendo di mentire o viene informato male? E in questo caso da chi? Lo ha detto il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente in risposta alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi. Noi stavamo già cominciando a lavorare per rimuovere le macerie, ha dichiarato il premier, ma il comune dell'Aquila si è riunito ed ha detto che le macerie devono essere sgomberate dalle ditte locali che così possono lavorare e non dal governo. Per questo noi ci siamo tirati indietro e loro non hanno fatto nulla. Abbiamo dato tutti i capitali necessari e non hanno ancora speso un euro. Il presidente del Consiglio ha risposto Cialente, tiri fuori l'atto secondo il quale il comune avrebbe detto di occuparsi dello smaltimento delle macerie. Parla di un atto che non è mai esistito. Sulle macerie da oltre un anno, sottolinea ancora Cialente, le competenze sono passate al governo, ennesimo funesto commissariamento che le esercita attraverso la società Sogesid, sua emanazione. E da ultimo con l'ordinanza 3923 che abbiamo chiesto a gran voce di cambiare. I comuni sono stati del tutto messi da parte. Il comune, fin quando c'è stata la protezione civile, riusciva a smaltire 600-700 tonnellate di macerie al giorno, continua il comunicato del sindaco. Nel febbraio 2010 il governo ha inviato all'Aquila il ministro Stefania Prestigiacomo che ne ha assunto la gestione. A questo punto il processo ha subito però un drastico rallentamento e il quantitativo di macerie smaltite è passato a non più di 250 tonnellate al giorno, meno della metà rispetto a prima.